cari amici di mille un'avventura recentemente abbiamo fatto diversi salti indietro nel passato arrivando addirittura al 1837 con questo problema di charles babbage che la sua macchina analitica il computer meccanico che aveva in mente di costruire avrebbe risolto qualcuno ha calcolato in una dozzina di giorni e noi ci abbiamo messo pochi istanti sui nostri computer facciamo un altro salto nel passato addirittura 1610 che cosa è successo nel 1610 e lo spunto arriva sempre dal linguaggio frink questo linguaggio molto particolare di cui l'estate scorsa abbiamo fatto una rapida così disamina e lo troverete qui sotto in descrizione tutto il tutto l'elenco di video che abbiamo fatto così potete mettervi in pari ebbene tra i vari programmi di esempio di questo linguaggio di programmazione sfogliando sfogliando tutto quanto si trova tantissima tantissimo materiale fino ad arrivare ecco qui sopra di me animate jupiter moons animare le lune di giove di che si tratta il programmino è questo è tutto qui sono poche righe fa riferimento a librerie in cui si fanno i calcoli con la posizione dei pianeti quindi in realtà non è tutto qui il programma scritto in linguaggio frink tra poco lo andremo anche a vedere in azione e andiamo a scoprire le sue caratteristiche ora con questo programma si possono animare le lune di giove le quattro lune che nel 1610 galileo scoprì grazie al cannocchiale che aveva costruito e che gli è servito per osservare questi particolari oggetti che all'epoca erano sconosciuti si conoscevano ovviamente giove e gli altri pianeti conosciuti quelli visibili le lune di giove che sono tantissime tra poco vedremo quante sono ebbene da terra con un piccolo cannocchiale se ne possono vedere quattro che sono detti satelliti medicei perché giustamente galileo galilei quando le ha scoperte ha pensato di dedicarle ai medici visto che aveva intenzione di essere ospitato a firenze allora ha fatto questa opera di piaggeria ecco li dedica ai più potenti del luogo per appunto essere trattato con deferenza quando si fosse presentato e quindi satelliti medicei sono queste quattro lune io europa ganimede callisto che tra poco andremo proprio a visitare intorno a giove e che grazie al linguaggio frink possiamo anche vedere animate in modo molto semplice per l'epoca siamo intorno al 7 gennaio 1610 era una scoperta strabiliante perché si pensava che tutti i pianeti dovessero orbitare intorno alla terra e non e che non esistessero oggetti che potessero orbitare intorno ad altri corpi celesti visto l'importanza che doveva avere all'epoca la terra nelle varie teorie astronomiche ci sono tante cose che si possono dire andiamo a vedere poi alcuni disegni fatti da galileo qui si vede addirittura io che passa davanti visto con un telescopio un po più potente del cannocchiale di galileo io che passa davanti alla superficie del pianeta e che lascia l'ombra vedete interessante questa immagine che risale addirittura al 2009 e altre cose che si possono dire che sono oggetti che hanno un certo diametro insomma ci sono tutte le loro caratteristiche ma queste ve le potete andare a vedere direttamente con le caratteristiche peculiari per esempio io con i suoi vulcani assolutamente evidenti sulla superficie invece europa con la sua superficie ghiacciata ganimede che supera mercurio per dimensioni quindi pensate mercurio è un pianeta e addirittura più grande di plutone che ancora più piccolo però risulta essere una luna di giove e poi callisto con i suoi crateri a impatto callisto ecco qui si vedono molto bene i crateri che hanno colpito questa luna quindi davvero tante cose interessanti che si potrebbero dire ma andiamo a vedere il programma che ci mostra queste lune animate poi le andiamo a vedere in space engine così le vediamo in tutta la loro bellezza intorno a giove ebbene il programma l'abbiamo un po' visto eccolo qui questo è il programma adesso lo andiamo a vedere e quando lo eseguiamo vediamo cose di questo genere questa è una pagina riprodotta forse di galileo stesso direi sì qui ci sono vari appunti che aveva appreso galileo quando aveva osservato le lune di giove appunto il cerchio che vedete qui è giove le stelline intorno che non si vedono nelle loro dimensioni sono invece le quattro lune che si riescono a osservare con un cannocchiale di quel genere e qui siamo nel 1610 in gennaio dal 2 al 14 e quindi dato che le lune orbitano intorno a giove in queste due settimane una dozzina di giorni si vede che durante notte dopo notte si spostano di posizione e quindi si capisce che stanno orbitando intorno a quel pianeta ora per vedere questa cosa animata grazie al linguaggio Frink vedete innanzitutto i commenti sono i commenti del linguaggio Frink sono esattamente come il linguaggio C con la parola chiave use possiamo richiamare altri programmi scritti in linguaggio Frink che contengono altri calcoli per conoscere la posizione di Giove e del sole e di tutti i pianeti poi vedete che qui si crea un oggetto un oggetto animation specificando anche i frame al secondo che in questa animazione verranno generati è una caratteristica di Frink di riuscire a creare queste animazioni poi andiamo a scegliere il primo gennaio del 1610 vedete le date come si possono inserire in Frink con questa notazione particolare e poi si inizia un ciclo for questo ciclo for con la variabile d inizia da la variabile doppio d che è la data iniziale e finisce alla data doppio d più due settimane notate come in Frink si possano fare operazioni tra date come se fossero semplicissimi numeri poi questo ciclo for viene anche eseguito un passo di 20 minuti e in pratica in un trentesimo di secondo frame dopo frame si vedono le immagini delle lune 20 secondi 20 minuti dopo 20 minuti dopo perciò in un secondo abbiamo 30 per 20 minuti quindi 600 minuti 600 minuti sono 10 ore quindi in un secondo di animazione che vedremo ci sono 10 ore dell'orario terrestre normale nel ciclo poi vedete qui le parentesi graffe che racchiudono ciò che viene ripetuto tutte queste volte si scrive innanzitutto la data a cui siamo arrivati si va a creare in un oggetto grafico con questa subroutine che è definita dentro a planets si va a creare l'immagine di Giove con le lune le quattro lune che abbiamo detto posizionate intorno spiaccicate contro il cielo poi si specifica il colore del dello sfondo che è nero si crea anche un particolare rettangolo per inquadrare bene Giove con le sue lune e si aggiunge all'animazione l'oggetto grafico con questo grigio invertito perciò vedremo lo sfondo nero come dovrebbe essere il cielo con dei puntini grigi che si muovono dopo aver fatto tutto questo ciclo e aver aggiunto frame dopo frame all'animazione andiamo a scrivere questa animazione in una immagine GIF che adesso andiamo a vedere spero che si veda perché i puntini sono un po' piccoli eccola qui ingrandiamola un po' probabile che non vediate nulla però vedete Giove che in effetti si muove leggermente ma intorno ci sono questi quattro puntini che stanno orbitando per questi 14 giorni dall'1 al 14 per due settimane stiamo seguendo le lune che sono a volte molto vicine a volte ecco adesso è iniziata la simulazione e vedete che stanno continuamente orbitando praticamente se questa animazione fosse fatta bene si potrebbero ritrovare le posizioni che Galileo Galilei nel 1610 aveva disegnato con quegli asterischi che avete visto quindi davvero interessante questo programma e complimenti all'autore di Frink che è un unico programmatore Alan Eliasen che ha realizzato per noi anche questa simulazione grazie al suo straordinario linguaggio ma ora andiamo a vedere le lune di Giove da vicino con Space Engine ed ecco il programma in esecuzione qui vediamo la Terra siamo nel 1986 in questo momento e ora andiamo verso Giove e poi scopriamo le sue lune ho utilizzato il pacchetto aggiuntivo i DLC di questo Space Engine che permettono di avere una risoluzione maggiore dei principali pianeti e delle lune che sono state fotografate ad altissima risoluzione ora andiamo a cercare il ecco qui allora cominciamo a scrivere Jupiter eccolo qui l'abbiamo trovato e andiamo direttamente verso Giove eccolo qui lo stiamo osservando ci allontaniamo un attimo per osservarlo da più lontano e qui vedete che effettivamente si notano più ci allontaniamo più le lune quelle di Galileo si vedono luminose anche se si perdono un po' nel cielo ecco qui abbiamo io questa è Europa a Maltea e adesso mi trovo in difficoltà perché vediamo un po' questa è Tebe dunque le lune di Giove numero di lune 95 quindi in realtà quelle che ha scoperto quattro scoperte da Galileo sono proprio il minimo sindacale ecco adesso comincio a vedere le altre perché ero troppo vicino quindi abbiamo questo è Ganimede questo è io a Maltea ah era dietro non la vedevo Europa allontaniamoci un po' che forse riusciamo a vedere oh eccolo qui questa è Callisto ecco quindi ero troppo vicino vedete quanto possono essere distanti e Giove adesso molto luminose perché in effetti qui giocano un po' con con l'HDR ecco una cosa così già è più credibile però rimettiamo che è più bello vedere il cielo stellato allora andiamo in ordine andiamo a vedere prima io poi Europa Ganimede e Callisto anzi andiamo al va bene così tanto è uguale allora andiamo su io ci stiamo avvicinando in 20 secondi vedrete che io che ho evidenziato si avvicinerà e noteremo le caratteristiche della sua superficie ecco qui si notano i vulcani vulcani dovuti a effetti stava ancora muovendosi ecco qui dalla parte oscura si vedono ancora di più a parte il sole no sto notando ah questa è la cometa di Halley perché siamo nel 1986 e si vede che avevo impostato questa data per una per un video precedente dove abbiamo parlato di comete di un anno fa quindi vedete che è già arrivata in questa data molto vicino al sole si vede la coda la coda della cometa poi magari la andiamo a vedere ecco questa è dicevamo non è la cometa ma è io e ha queste questi vulcani non so se hanno simulato anche la superficie in qualche modo o se è piatta vediamoci avviciniamo perché dovremmo essere atterrati ecco sì siamo atterrati scusate ma ecco avviciniamoci un po' sì la superficie l'hanno modellata in effetti con dei rilievi che probabilmente potrebbero essere anche stati rilevati da sonde che hanno esplorato per esempio andiamo a vedere qui però non si può avere una si direi che ecco direi che i rilievi ci sono ovviamente sono molto grossolani rispetto a quelli che possiamo avere dalla terra dove ci sono zone davvero ben fatte comunque questo sicuramente è suggestivo vedere questi vulcani dovuti a effetti mareali per la presenza vedete di Giove così così vicino così vicino ma in realtà non è così vicino come Giove che è enorme e sembra che sia vicinissimo adesso andiamo a vedere Amaltea non ci interessa perché non ti ha visto Amaltea Galileo andiamo su Europa 20 secondi e arriveremo su quest'altro su quest'altra caratteristica luna di Giove caratteristica perché è una superficie ghiacciata si immagina che sotto ci siano oceani e vedete tutte queste striature magari ci avviciniamo ci siamo avvicinati un po' troppo quindi questa vorrebbe essere una superficie ghiacciata e probabilmente l'idea la rende ecco vedete tutti questi solchi anche di recente sono usciti articoli che spiegano che queste fratture come i vulcani di di Io sono dovuti a effetti mareali per la presenza di Giove adesso non trovo c'è sicuramente Giove così grande che adesso non riusciamo a trovarlo allora mi allontano un po' e forse spunterà fuori da qualche parte è incredibile ecco perché non lo vedevo forse perché in effetti Europa non la vedevamo prima perché era quasi dietro a Giove poi vediamo un po' Ganimede andiamo a vedere Ganimede con i suoi crateri 20 secondi e arriveremo e infine Callisto l'ultimo l'ultima luna eccolo qui ancora due secondi ecco dunque è così luminoso Callisto c'è scritto nella pagina di Wikipedia che abbiamo visto prima che potrebbe essere visibile se non fosse vicino a Giove che lo copre con la sua luminosità quindi è una luna molto luminosa e infine questa Europa abbiamo già vista ci tocca vedere anche Amaltea perché continuo a selezionarla ma Callisto era molto più lontana andiamo a vedere Amaltea se vale la pena anche se Galileo non ha avuto il piacere di sapere che ci fosse anche Amaltea ha tra l'altro Amaltea questo asteroide gelido perché in pratica le lune più piccole sono 95 in tutto ma alcune sono oggetti di questo genere anzi la maggior parte sono asteroidi catturati e allora per finire Callisto che spero sia questo o abbiamo trovato che dovrebbe avere i suoi crateri a raggera avendo diciamo catturato parecchi asteroidi che cercavano di arrivare addosso a Giove e invece hanno incontrato Callisto vediamolo un po' più un po' più da vicino ecco per esempio qui proviamo a scendere ecco qui si vedono molto bene e questa è un'immagine ad alta risoluzione e qui siamo già così vicini che comincia a vedersi il cratere sgranato adesso sono atterrato violentemente ecco qui evidentemente è tutto bianco non si capisce nulla ci allontaniamo ed ecco Giove sullo sfondo che fa la sua bella figura bene per concludere visto che l'abbiamo visto prima il sole è facile da trovare basta mettere Giove così in al buio e allora visto che lì c'è la cometa di Alley e siamo nel 1986 dopo aver visto le lune di Giove viste da Galileo nel 1610 andiamo a vedere questa cometa ecco siamo entrati all'interno e questo è il nucleo cometario ma siamo all'interno dei detriti che vengono sollevati da queste emissioni di di ghiaccio di questa sublimazione insomma di materiale qual è il periodo 70 anni 75 anni perciò nel 1986 è passato vicino al sole l'abbiamo potuta vedere chi c'era all'epoca e dovremo aspettare 75 anni dall'86 quindi fatevi due conti per rivedere la cometa di Alley eccola qui con la sua coda vedete come ci sono due code in realtà vedete una è proprio dovuta al vento solare questa qui un po' più azzurrina e l'altra sono materiali che sublimano e che vengono lasciati indietro nell'orbita che sta seguendo la cometa bene spero che queste cose vi possano interessare come al solito andiamo a vedere anche la galassia di Andromeda facciamo questo salto di due milioni di anni luce per andarla a vedere e nell'ultimo video che abbiamo fatto su Space Engine siamo anche andati ad osservare il buco nero centrale della galassia di Andromeda che nessuno ovviamente ha mai visto ma che Space Engine riesce superbamente a ricreare proceduralmente con si spera le conoscenze di relatività generale che ci permettono di immaginare come potrebbe essere un buco nero se ce lo avessimo davanti a me quindi non resta che ringraziarvi per l'attenzione commentate se vi interessano queste cose e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti Milleuna Avventura ci porta nel passato con storie di byte e pixel che non abbiamo d'enticato senza dubbio ciò che amo Milleuna Avventura il nostro mondo è al